Credo sia ora di ripresentarci come si deve. Sono Edmund Ventura della Oasis Project. Un tempo nota come Life Extension, L.E. Supporto tecnologico. Sì, sono il tuo supporto tecnologico. Ci siamo visti più o meno 150 anni fa. Oh, cazzo. Sei tu che mi hai venduto il sogno lucido. E diavolo è successo dopo. Ho cercato di avvertirti al ristorante. Ti ho detto che dovevi avere un controllo su te stesso che dipendeva tutto dalla tua mente. Tutto questo, ogni cosa, è creato da te. E ora siamo diretti verso il vero momento della tua scelta. Vero momento della scelta? Sì. Il sogno lucido quando è cominciato? Ricordi la sera della discoteca? Ci vediamo presto. Quella notte, dopo che Sofia se n'era andata, ti sei addormentato sul marciapiede. Era questo il momento che hai scelto per il raccordo. Raccordo? Raccordo. La fine della tua vita reale e l'inizio del sogno lucido di L.E. Un raccordo di molti, molti anni che sono passati mentre eri congelato e sognavi. Dal momento in cui ti sei risvegliato in strada, nulla è stato vero, in senso tradizionale. Apri gli occhi. Il tuo sogno lucido è monitorato dalla Life Extension e da un gruppo di esperti che segue ogni tuo pensiero, anche in questo momento. Perdonami, ti faccio scoppiare il cervello. Non sono un amante del vuoto. Lo so. Abbiamo cancellato ciò che è successo dalla tua memoria. Cancellato. E lo abbiamo rimpiazzato con una vita migliore. Sotto questo bellissimo cielo stile Monet. Il preferito di mia madre. Una vita migliore perché avevi Sofia. E hai plasmato il tuo sogno lucido sull'iconografia della tua gioventù. La copertina di un disco che una volta ti faceva commuovere. La copertina di un disco? Ci sono cose che tu sai che... Tu sei ancora troppo piccola per capire. Un film, visto una notte molto tardi che ti ha mostrato come poteva essere un padre. O come poteva essere l'amore. Questa era una donna gentile. Qualcosa di più. Di un'anima gemella. La conoscevi appena nella tua vita reale, ma... Nel tuo sogno lucido, lei è stata la tua salvatrice. Che è successo alla mia vita vera? È successo qualcosa? Che avete cancellato? Vuoi saperlo veramente? Voglio sapere tutto. La mattina dopo la discoteca ti sei svegliato in strada. Eri solo e con il posto mi dio una sbornia. Ti sei alzato e te ne sei andato. E non hai mai più rivisto Sofia. Allora non l'ho uccise. No. Hai combattuto contro il Consiglio, i sette nani per il controllo della società. Alla fine è stato Thomas T, l'amico di tuo padre, l'uomo a cui hai salvato il lavoro, a lottare per riportare la società sotto il tuo controllo. Tommy. Ma poi... qualcuno è morto. Desideravi troppo, Sofia. Ti sei rinchiuso per mesi. Eri solo. Non sopportavi più il dolore. Le emicranie. Riuscivi appena a sopravvivere. Vi ho trovati su internet. Ho firmato un contratto con voi e poi... Orale, torna me. Qualcuno è morto Io sono morto In una giornata di fine dicembre Ti sei consegnato a noi Ora ti trovi in uno stato di sospensione Il tuo amico Brian Shelby organizzò una commemorazione di tre giorni nella tua vecchia casa Lui era un vero amico Tutti sentivano la tua mancanza Ma Sofia non si è ripresa mai completamente Era lei che in qualche modo ti conosceva meglio di chiunque l'altro E come te Non dimentico mai Quell'unica notte in cui il vero amore sembrava possibile Conseguenze, David Sono le piccole cose Le piccole cose Niente è più grande, vero?